Nella nostra diocesi stanno per cominciare appunto a lavorare in campo della pastorale due romeni, Ernest e Cipriano e poi appunto è presente anche Don Anicetto a Siamanna e Sia Piccia e anche Don Frenzzi diciamo che dà una mano appunto a Desolo. Ecco questa presenza possiamo dire in un certo qual modo anche di missionari che vengono a casa nostra. Questo ti dice come ormai essere missionari non è soltanto un andare ma è anche un arrivare da noi, no? Sì sì, questo è molto bello, non è soltanto un donare, oggi stiamo ricevendo. Ma questo esprime l'universalità della Chiesa, la cattolicità. Cioè non dobbiamo sentirci noi portatori del nostro messaggio ma ricordiamoci che anche gli altri hanno una ricchezza da darci. Questo scambio di cultura, questo scambio di esperienza anche nella fede sicuramente arricchisce anche noi. E oggi il tema di quest'anno per esempio esprime molto bene tutte le Chiese per la Chiesa. Cioè non dobbiamo chiuderci noi stessi, le nostre parrocchie, le nostre diocesi, ma dobbiamo farcene carico di tutta la Chiesa, dell'universalità. E questo è molto bello che stiano venendo anche questi sacerdoti da altre nazioni a dare una mano qui nella nostra Chiesa particolare.